Non importa se lo amichi o è un capital H-I-M A-M-A-M-A-M-A-M Ate la risposta perché eri nato in questo modo, baby Proseguiamo il terzo cast in cui ha misto Polini Amici vi presento subito l'aspirante Miss numero 32, giusto? Sì, giusto. Oh, nome? Genia Rebes. Oh, non so se avete notato questo accento un po' particolare, un po' caliente, un po' spagnolo, in realtà è così. Quindi ve la presento subito, è una ragazza di dove sei? Buono, sono nata in Cuba. Cuba, benissimo. Allora, da quanto tempo, da quanti anni sei in Italia? No, abito in Cuba. Ho capito, bene, però capisci bene l'italiano. Abbastanza. Ok, allora ti sei iscritta a Mistopolini, quindi siamo felicissimi. Speriamo che tu ti diverta. Io voglio sapere un po' di cose di te. Intanto quanti anni hai e cosa fai nella vita? Se lavori, studi? Studio, ho 23 anni, sono studente di musica, suono il piano e anche l'arpa. Ma che bello, quindi, cioè, veramente bellissimo. Allora, cosa ti aspetti? Vuoi diventare una musicista? Il mio sogno è fare l'attrice e modella. Sì, modella. Quindi tutt'altro? La musica mi piace anche cantare. Che cantare? Quindi probabilmente magari diventerai tipo una Jennifer Lopez, che canta, recita. Può essere possibile, no? Può essere possibile? Beh, io glielo auguro. Adesso no, adesso sono studenta. Vabbè, giustamente per il momento studia e si prepara. Vabbè, senti, parlando di musica mi affascina sempre molto. Il tuo artista preferito? Come cantante? Ero, siamo Ramazzotti. Ero Ramazzotti. Quindi un cantante italiano? Sì, certo. Mi piace molto. Puoi intonare una sua canzone? C'è qualcuna che ti piace? No, 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 no. Non ti piace? L'abbiamo presa alla sprovvista. Vabbè, perché l'italiano non è tanto buono e sento sempre la musica in italiano, non in spagnolo. Vabbè, capisci? Anche perché ero seconda anche in spagnolo, vero? Vabbè, tranquilla. Allora, cara, quella telecamera di Mistopolini è anche per te l'opportunità di fare un saluto e dire quello che vuoi. Un saluto alla mia mamma, tutta la mia famiglia, alla gente che mi vede, credo che per internet mi vede la gente di Cuba, non lo so, e anche al mio amore. Che carino, in bocca al lupo. In bocca al lupo, buona fortuna. Ah, ok, ho capito adesso. Prima no. Buona fortuna. Dimmi. Abbiamo finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.